Salve a tutti e benvenuti su 11step, eccoci qua con un altro nuovo tutorial, oggi parleremo del layering. Avevo già fatto un video a riguardo, sul vecchio canale, però appunto per problemi di copyright ho dovuto eliminarlo. Quindi adesso mi tocca registrarlo di nuovo, però così ne approfitto per comunque fare un video più breve rispetto a quello che avevo fatto prima. Anche per non farvi annoiare più di tanto, quindi cercherò di spiegare le cose più importanti. Prima di cominciare volevo spiegarvi, per chi magari non lo sa, cos'è il layering. Il layering non si usa soltanto nella produzione audio, ma viene usata anche per la produzione di foto, video e anche sul mangiare. Ad esempio immaginiamoci, che ne so, un wafer dove abbiamo al suo interno il cacao, no? E poi ci sono tanti strati. Layer in italiano vuol dire quindi strati. Immaginiamo così quindi nella produzione audio, noi prendiamo un suono che magari, che ne so, un suono povero, un suono non tanto corposo. Con il layering possiamo quindi aggiungere altri suoni, per quindi ingigandire, per ingrandire quel suono, per renderlo più corposo. Questo possiamo farlo attraverso le tracce audio, quindi possiamo inserire nuovi sample, altre cose, appunto utilizzando le tracce audio, oppure tramite le tracce MIDI. Quindi utilizzando altri plug-in, in combinazione, ovviamente bisogna poi stare attenti ad altre cose che vi dirò durante questo video. Ora vi spiegherò dove e quando usarlo. Dove va usato? Io principalmente lo uso ovunque, soprattutto nella batteria. Quando prendo un kick, certe volte, vi faccio vedere subito, invece di parlare, che ne so, abbiamo questo kick, no? Facciamo con una traccia audio, così, tanto per farvi vedere meglio la forma d'onda. Prendiamo ad esempio questo, ok? Questo kick già da solo potrebbe andare bene, però poi durante il mix, durante l'aggiunta di altri suoni, questo kick può allontanarsi troppo, quindi può scomparire. In questo caso possiamo riportarlo magari in alto, prendendo un altro kick, che abbia magari un po' di punta. Ecco, come questo. Faccio una traccia audio, la metto sotto, prendo questo kick, cosa mi serve qua? Devo capire, effettivamente, in questo suono principale, cosa manca. Quindi come posso arricchire questo suono? Mettendo magari più punta. Quindi cosa faccio? Prendo questo suono, lo accorcio così, sento, ecco, mi sembra un po' di punta, senza, vedete? Quindi sto utilizzando un altro strato, un altro layer, con un altro suono, con un altro kick. Potrei quindi prendere, che ne so, un altro sample per dare un po' sulle medie quel tipo di timbro. Questa cosa potrei farla anche sullo snare. Prendiamo questa volta una traccia MIDI. Prendo ad esempio questo. Perfetto. Qua siamo sulla nota sbagliata. Questa è la nota originale. Lupiamo. Come facciamo? Qua siamo all'interno di Ableton. Per raggiungere un altro suono all'interno di una traccia MIDI, io cosa faccio? Ho semplicemente una traccia MIDI e quindi metto qui sotto un altro snare. Questo qua, ad esempio. E faccio lo stesso procedimento. Lo metto qui sotto, prendo questa qui e gioco due suoni che suonano tutte e due nello stesso punto. Posso mettere in solo. Ovviamente il suono secondario, quindi l'altro layering, praticamente lo metto con un volume più basso. Perché quello principale è sempre quello che scegliamo noi. Adesso ascoltiamo con tutti e due i suoni. Non notiamo troppa differenza. Perché qua magari andiamo a togliere. Ci si interessa magari qua prendere solo il pancio di questo snare. Quindi faccio così. E qua magari prendo l'aria, quindi vado a tagliare. E qua faccio magari così. Faccio anzi magari un fade in. Perfetto. Aumento un po' di volume. Quindi vedete, prendo da quest'altro snare, prendo solamente la coda. E da questo prendo solamente il pancio. La parte iniziale di questo snare, la punta. Vedete? Ci sono tantissimi modi per fare il layering. O utilizzando tantissime drasce, però appunto poi andremo a fare solo casini durante tutto il progetto. Oppure io come faccio ultimamente, questa la possiamo eliminare. Direttamente da qua, poi grazie ad Ableton possiamo fare direttamente CTRL più G, già avere un rack. Aprire la catena. Prendere questo snare e qua possiamo mettere tutti i suoni che vogliamo noi. Quindi possiamo fare tutti i layering che vogliamo noi. Stessa cosa che ho fatto prima. Metto così one shot. Basso un po' il volume. Ovviamente questo, se dobbiamo magari far suonare sempre così questo snare, ma se in un altro punto vogliamo far suonare solo questo, allora è giusto avere le tracce separate, quindi disattivare solo quando ci serve. Ma in questo caso mi serve avere questo snare già completo con questa traccia MIDI. Perfetto. Poi ovviamente andiamo ad ecolizzare perché è importante sapere che nel layering, quando aggiungiamo un altro suono sotto a quello principale, bisogna stare attenti a tantissime cose. Per prima cosa, la fase. Quindi se i due suoni, mettendo magari in mono, vanno ad eliminarsi, bisogna anche valutare questo. Quindi mettiamo magari questi due snare, mettiamo poi in mono. Ecco, non abbiamo una cancellazione, perché poi una cancellazione effettiva è impossibile qua. Ascoltiamo se magari c'è qualche problema, perché a volte mi capita. Soprattutto quando noi andiamo a duplicare questo stesso suono. Perché, che ne so, magari qualcuno vuole fare CTRL più D, duplica, utilizzare sempre questo suono, però magari modificare il pitch. Da questo farlo così. Magari questo allungarlo. Questo modificarlo. Quindi abbiamo sempre lo stesso suono, però vedete che? Vediamo. Bisogna sempre controllare se con la fase siamo a posto. Molto comodo, ad esempio, se facciamo i layering con le voci. Ci capita che magari la cantante non ha avuto il tempo di registrare altre take, quindi per fare la voce più bassa, più alta. Quindi ci tocca farlo manualmente a noi. Quindi ci tocca duplicare la traccia vocale. E poi modificare il pitch, modificare quello, modificare l'altro, così creare. Però in quel caso si può creare una leggera cancellazione. In conflitto possiamo essere anche con le frequenze. Quindi bisogna stare attenti. Io, ad esempio, qua in quello principale mi serve, vi faccio ascoltare, metto in solo, solo questa parte. Qua abbiamo, diciamo, la coda, la brillantezza. E quindi magari qua potrei, anzi questo, mettere qua e togliere un pochettino di aria, ok? Perché mi serve solo questa parte qua. Qua la vado a cancellare un po'. Nel secondo, invece, mi serve quindi solo la parte brillante. Ecco qua. E quindi taglio fino a qua. Perché qua poi ci sarà questo qua. Quindi evitiamo di dare i conflitti. Vedete, poi magari questo dura troppo, magari poi lo accorcio così. Senza. Qua possiamo aggiungere un po' un riverbo, la possiamo aggiungere un delay. Con i layering è una cosa molto comoda anche per dare un effetto stereo abbastanza interessante. Perché questo lo possiamo mettere in mono, questo lo possiamo mettere in stereo. Oppure duplicare o aggiungere un altro sample qui sotto. E magari in questo metterlo un po' a sinistra, quello un po' a destra. E effettivamente andremo quindi a dare molta apertura stereo. Poi ci possiamo aggiungere un clap qui sotto. Ecco questo qua, ad esempio qua, questo è un altro layering. Quindi facciamo un po' più corto. Abbassiamo, notevolmente, il volume. Vedete? E così via. Poi aggiungiamo magari qualche loop. Mettiamo ad esempio questo. Poi lo snare ovviamente poi si abbassa, si sistema. Tutti i layering che abbiamo messo possiamo anche utilizzare un compressore, come faccio di solito. Oppure un saturator per compattarli tutti. Metto questo. Perfetto. Basso un po' la punta. Nello snare posso mettere anche un kick. Posso prendere anche questo. Ci ho mostrato nel browser e utilizzerò questo per metterlo qua, per dare un po' di punta. Ovviamente mi serve solo la punta. Quindi prendo questo. Vedete? Già mi dà appunto più punch. Poi ovviamente questo vale anche per, che ne so, qualche synth. Quindi magari, che ne so, abbiamo fatto un lead. L'ho fatto questa melodia così a caso. Qua possiamo quindi fare un duplica. Duplichiamo questo suono, io di solito, perché prendo le stesse note. Poi magari posso modificarle. E gli posso andare a cambiare tipo di suono, tipo preset, altre cose. Ecco, vediamo. Sfruttiamo. Tutto i due suoni. Con questo gli do più corpo. E con questo gli do più apertura. Ovviamente abbiamo un conflitto esagerato di frequenze. Quindi è anche di abbiente. Quindi in questo caso qua, gli darò, gli andrò a togliere qua la parte. E qua mi prendo la parte più bassa. Andrò a tagliare sempre, perché appunto ci sarà poi il sub. Senza? Vedete? Magari se poi questo suono fa cagare. Però qua c'è troppo, eh, troppo delay. Lo duplico di nuovo e qua magari gli darò una parte con più medie. Vediamo cosa troviamo. Vediamo questo. Questo non basta ovviamente di equalizzare soltanto. Ma è soprattutto importante gestire il sound design. Quindi ci vuole un suono più corposo, un suono con più alto, un suono con più medio. Bisogna, diciamo, costruire un suono equilibrato. Quindi se quel suono è povero di frequenze alte, è inutile andare a equalizzare. Per prima cosa andiamo subito a sistemare sul sound design singolo di quel suono. E poi andiamo a dare più sostegno, più corpo, utilizzando altri suoni. Ci darà più volume, ci darà soprattutto un suono più corposo. Per farvi capire meglio questa tecnica, voi immaginate su un vocal. Che ne so? Ascoltate un brano, un brano pop, dance, dove appunto c'è un vocal. Quando voi ascoltate, magari qualcuno non ci fa caso, a prima vista sembra che ci sia soltanto una voce registrata. Ma in realtà lì ci sono tanti take, tante altre voci sotto a quella principale. Per dare più corpo, per dare più ambiente, per dare più effetto coro, per dare tantissime altre cose. Sui vocal, appunto, se noi prendiamo un vocal, vi faccio vedere. All'inizio però facevo casino, quindi attenzione a non fare i pasticci, perché se esageriamo troppo, se non rispettiamo alcune cose, va a fine che facciamo ancora peggio. Quindi bisogna rispettare frequenze, immagine stereo, vedete che io appunto ho fatto tre suoni diversi. Magari questo posso, quello centrale lo lascio qua, questo magari posso parannarlo un po' a sinistra e questo magari un pochettino a destra. Prendiamo un vocal, vabbè prendiamo questo, in questa voce poi sotto andrò a registrare una voce più bassa, una voce più alta. Se non abbiamo già la possibilità, o magari utilizziamo dei sample dove abbiamo solo questa voce, ci tocca duplicare tre volte, o come vi viene più facile. Magari poi ci abbasso un po' il pitch. Ci sono altri plugin che ci permettono di andare a sdoppiare, effetto chorus, quindi metto un'ottava più bassa. E qua metto magari un'ottava più o più alta. Ascoltiamo con questa qua. Magari posso giocare un po' con la formante. Senza. Con. Poi qua abbiamo un'altra voce modificata, effetto po' coder, possiamo aggiungere tantissimi altri effetti per dare una cosa più particolare. Questo sono tutti gli strati che possiamo aggiungere a questi suoni. Questo è tutto ragazzi, spero di avervi spiegato bene o male come utilizzare questa tecnica. Come detto prima, con le tracce audio direttamente utilizzando i canali, quindi così a discesa. Oppure direttamente, se vi viene più facile, nella traccia MIDI andando a fare CTRL più G qui su Ableton e utilizzando le catene. Io vi do come al solito appuntamento al prossimo tutorial. Vi ricordo di lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. E attivate soprattutto la campanellina. Così potete restare sempre o comunque aggiornati. Quindi buona giornata e soprattutto buona musica. Ciao a tutti!